Buongiorno a tutti, benvenuti alla prossima giornata di ritorno del campeonato del Serie A, come dire? Iniziamo con per testare la squadra 8, tempo di stessa esagare. Con numero 13, Giorgio Alpericazzo. Con numero 99, Giorgio Pierini. Con numero 23, Lora Inicata. Con numero 5, Arianna Funetti. Con numero 31, Romana Costa. Con numero 27, Pintana Capitatore. Con numero 24, Martina Inacuento. Con numero 37, Fernanda Maior. Con numero 7, Giorgio Alpericazzo. Con numero 27, Giai Alpericazzo. Con numero 22, Martina Capitano. Alinatore Alpericazzo. Preventiamo ora la parola della squadra dell'Altrano Alpericazzo. Con numero 6, il Dottorio Alpericazzo. Con numero 8, il Dottorio Alpericazzo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.